A livello intermedio si pone il PASS, Platform as a Service, una soluzione in cui non solo viene gestito dal provider la parte diciamo relativa allo strato hardware, diciamo così, quindi anche la rete, lo storage eccetera, ma anche la parte relativa per esempio al sistema operativo al middleware. Tipicamente queste sono quelle soluzioni con le quali noi possiamo andare a pubblicare in rete delle nostre applicazioni, quindi diciamo che quando parliamo di PASS più che di utenti finali stiamo parlando di sviluppatori che hanno a disposizione quindi una piattaforma su cui far girare le proprie applicazioni.